Insulti. Jasmine Carrisi non le manda a dire. Non me ne frega un. La bella e famosa figlia di Albano e Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi, su Instagram risponde in modo secco ad una domanda citando una canzone. Cos'è successo? Continua a tener compagnia ai suoi tantissimi fan e follower su Instagram, e ad allietare le loro giornate, Jasmine Carrisi, la meravigliosa figlia di Albano e Loredana Lecciso. Ad una precisa domanda di un fan, la risposta è secca con tanto di citazioni di una canzone. Sempre più popolare, Jasmine, che non smette di raccogliere affetto, complimenti e stima da parte di coloro che la seguono già da tempo, e con grande passione e costanza, quest'ultima sembra ormai essere pronta a ricalcare le orme dei noti personaggi della sua figlia, in cui scorre il sangue della musica. Dopo l'esordio fatto proprio nel mondo della musica con Ego, il suo brano che le ha dato tante soddisfazioni soprattutto su YouTube, considerate le tantissime visualizzazioni ottenute, è arrivato anche Tebo e Senior, il programma condotto da Antonella Clerici. Accanto al papà, e nelle vesti di Koja, la Carrisi ha raccolto commenti positivi ed ha aumentato ulteriormente la propria popolarità. Jasmine Carrisi Instagram, la figlia di Albano, risponde ai fan con una canzone. Replica che non lascia spazio a dubbi. Continuano a crescere la fama e la popolarità di Jasmine Carrisi. La figlia di Albano, di pari passo con l'affetto del pubblico, che ha modo di apprezzarla su Instagram, e che di recente, ha avuto per lei commenti positivi dopo l'esperienza a Tebo e Senior. Mentre un indizio stupisce e sembra suggerire che sia pronta a spiccare il volo, la Carrisi continua a costruire un rapporto molto forte, e intenso con chi la segue proprio sul social network dove ha un grande seguito. Tra le stories, in questo caso, Jasmine decide di rispondere ad alcune domande dei fan e pubblicare le risposte, condividendole con il pubblico. Tra queste, a colpire l'attenzione è una curiosità di un fan che chiede. Cosa pensi dei diss nei tuoi confronti? Diss è un termine, che sta per dissing, che può essere tradotto con mancanza di rispetto o insulto, critica. Si tratta di un slang, che viene utilizzato in modo particolare nella musica rap. Ciò che dunque chiede il fan a Jasmine, è un suo parere sulle critiche, o sugli insulti che la figlia di Albano riceve. Non vi è una vera e propria replica, sebbene una risposta forte arrivi da parte della figlia del cantautore di Cellino San Marco che, per l'occasione, posta una canzone, Il Don Fu di Kyo, un brano di Bilse Hanfeat e 40. La traduzione del titolo della canzone postata da Jasmine in risposta alla domanda è Non me ne frega un c asterisco 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 Una replica che non lascia spazio a dubbi, e che di certo avrà soddisfatto la curiosità dell'utente